E ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video Oggi vi farò vedere questa costruzione su Minecraft che è veramente ingegnosa Vi dico stin' già da subito che se questo video raggiunge gli 800 mi piace Però un video sul castello più sicuro di Minecraft E fidatevi ragazzi come state un pochettino vedendo È veramente una figata assurda Comunque detto questo iniziamo subito Ok ed eccoci qui ragazzi Allora non so se già ve ne siete accorti ma ho un po' di mal di gola Però vabbè pazienza Comunque allora questa mappa qui in pratica cosa consiste È una stanza dove però all'interno ha un sacco di cose E adesso andremo a vedere infatti cosa ha all'interno Comunque questa mappa è stata creata da Euclides Molti di voi forse già se lo ricordano per diverse mappe che ho fatto sul mio canale Naturalmente ci sarà poi il link del download in descrizione se raggiungiamo anche i 500 mi piace Comunque iniziamo subito Allora noi abbiamo questa cesta che è un pochettino bugata per via della Shaders Ma letteralmente sti cazzi Allora abbiamo la cesta e noi all'interno abbiamo la chiave Ok quindi la chiave la dobbiamo mettere naturalmente nell'albero Quindi facciamo così e come vedete si aprirà qua il tutto Ok ragazzi allora ho dovuto un attimo levare la Shaders Perché mi sono ricordato Perché purtroppo quella che utilizzo spesso In questi giorni di mappe non funziona tanto bene Perché diciamo non fa vedere le animazioni dei blocchi Quindi mi dispiace ma la facciamo senza Shaders Allora comunque noi qui abbiamo la chiave ragazzi Dobbiamo posizionarla appunto come dicevo prima nell'albero Infatti come vedete le animazioni si vedono finalmente Entriamo dentro questa stanza dove abbiamo appunto nella stanza diciamo tutta vuota Per questa zona qui Allora io vi già dire di premere questo bottone con la lampada Che mi fa intuire che dovrebbe attivare le luci di questa stanza Vediamo un pochettino E infatti abbiamo tutte le luci sul soffitto Mentre ragazzi con questo bottone qui dovremmo chiudere la porta Vediamo un pochettino si chiude la porta Yes si chiude la porta Comunque cominciamo diciamo un pochettino per ordine Allora iniziamo dal letto Partiamo facciamo un ordine così Poi scendiamo e poi facciamo così Allora quindi partiamo dal letto Premendo questo qui dovrebbe aprirci una stanzetta per il letto Ed eccolo qui infatti E anche per due persone quindi sono due letti C'è una torcia Delle librerie che fanno diciamo da sfondo Abbastanza carino dai Ci può stare per essere diciamo tutto all'interno di una stanza Perché naturalmente deve essere tutto compatto Comunque riprimiamo il bottone E si dovrebbe chiudere Perfetto Passiamo adesso a questo emetto Penso che sia appunto il coso delle armature Se noi infatti premiamo il bottone dovrebbe aprirci Qua vicino Ecco qui Il coso delle armature Dove noi purtroppo ragazzi abbiamo soltanto un'armatura a disposizione Quindi se noi ad esempio prendiamo qualcosa in diamante Così Andiamo a posizionare qua Se noi andiamo a premere questo bottone Qui si chiuderà Ma se dopo lo andiamo a ripremere Comunque sarà sempre la stessa identica armatura Quindi è soltanto per un'armatura ragazzi Possiamo adesso richiuderlo tranquillamente Questo qui ragazzi è il sistema di storage Che è molto figo Infatti dopo andremo un attimo a vedere anche all'esterno Come funziona tutto il circuito Che appunto lo fa funzionare Allora il primo bottone Come vedete qua vicino C'era già questo sim della chest Dove noi non abbiamo nulla Ma premendo il bottone Come avete sentito Opla Abbiamo ragazzi Una chest Dove all'interno abbiamo delle carote Prendiamole Ok Però ragazzi La figura da dove sta Che non c'è soltanto una chest Ma ci sono molte di più Infatti queste qui Quelle con le carote Riprimiamo il bottone Sentiamo il rumore degli cosi E scomparsa la chest sotto E abbiamo un'altra chest Dovente abbiamo i diamanti Obiettivo quanti diamanti Prendiamoci di tutti Perfetto Adesso premiamo di nuovo il bottone Cosa succede ragazzi Guardate un po' Lo faccio vedere di più da lontano Il kart si scende sotto E ne spunto un altro da sopra Quindi abbiamo tipo Delle cose in redstone Perfetto Riprimiamo il bottone Di nuovo ci sarà lo stesso ciclo Diciamo La chest scende sotto E compariamo quella da sopra E qua dentro ragazzi Abbiamo armature Spade Un arco L'arco con le frecce Ce la prendiamo Così tanto per Questo qui però ragazzi È l'ultima chest Che abbiamo nel nostro sistema di storage Per resettare Diamo il tutto Questo dobbiamo fare Dobbiamo ripremere questo bottone La chest scomparirà E appunto Scomparirà diciamo Tutto il sistema Per riprendermi Appunto la chest con le carote Dobbiamo premere Il bottone di nuovo Arrivati qui Ripremiamo il bottone E noi avremo di nuovo La nostra chest con le carote Eccola qui Comunque Ripremiamo questo qui Per chiudere il tutto Opla Perfetto Questo qui ragazzi Invece Ci aprirà All'interno Di questa stanzetta Il portale del nether Deve essere qui vicino Eccolo qua Vedete ci apre Un portale 3x3 Per il nether Si può fare anche più piccolo Ma comunque Ci sta È appunto Abbastanza utile Potete sostanzi immaginare Di avere questa piccola stanzetta Diciamo All'interno di casa vostra Dove avete tutto Perché in pratica Questo qui è un'intera casa Perché non manca ragazzi Veramente nulla Infatti Dopo il portale del nether Abbiamo anche il sistema Di fornaci Dove noi possiamo appunto Cucinare tante belle cose Ed è tutto automatizzato Infatti Qui abbiamo l'input E qui abbiamo l'output Cosa dobbiamo fare ragazzi Semplicemente Prendere ad esempio Del coal Prendere delle patate Quindi potato Così Mettere le patate qua dentro Mettere il carbone Qua dentro Se aspettiamo un attimo Dovremmo avere poi qua dentro Noi ragazzi Le patate già belle cotte Gira 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 Sta caricandolo Non è vero Vediamo qua dentro Tac Non c'è nulla Ah ok Ecco Sta prendendo adesso ragazzi Il coal E quindi A breve dobbiamo avere qui E infatti le nostre patate cotte Guardate come arrivano Anche velocemente Vedete Veramente una figlia d'assurdo Non è poi qua dentro Possiamo appunto Metterci tanti altri oggetti Lui pian piano Si prenderà tutto E cucinerà tutto Quello appunto Mettere dentro questa cesta E finirà qua dentro Quindi veramente Non sarà molto utile Basta mettere Un 3-4 stack di carbone Tutti il resto Ci mettiamo Del ferro Qualsiasi altra cosa Dell'oro Come avete visto Anche roba da mangiare Volendo Comunque Ripremiamo questo bottone E dovrebbe chiudersi Il tutto Bam Perfetto Adesso passiamo A delle cose Un pochino più semplici Come ad esempio Un'incudine Premiamo qui Dovrebbe comparire Quando c'è un'incudine Guardate Eccola qui Qui abbiamo Il nostro incudine Noi possiamo ad esempio Rinominare quest'arco E lo chiamiamo Paracarote V2 Perfetto Come vedete Funziona a tutta la perfezione Poi basta ripremere il bottone E di nuovo L'incudine scomparirà Dalla stessa e medesima cosa Abbiamo anche la crafting table Dovrebbe comparire qua sotto Eccola qui Abbiamo qui una crafting table Dove possiamo appunto Craftare tutto quello che vogliamo Craftiamo tanti blocchi in diamante Possiamo ripremere il bottone E li scomprirà appunto Nel pavimento Poi abbiamo un altro sistema Che è molto utile Che è questo qui Dall'enchanting Infatti noi premiamo Questo bottone qui Dovrebbe aprire Ecco qua Guardate ragazzi Quante cose Anzi voglio vedere un attimo Mettendoci in Game mod Come cacchio L'ho scritto game mod Game mod 0 Vedete Oddio Ok ci ha dato Un fattivo di esperienza 38 Ok sta ancora salendo Ragazzi Cioè quante spende Ci sta dando Oh mio dio C'è dato ragazzi 40 livelli E' una cosa assurda Comunque Possiamo rimetterci In creative Infine ragazzi Abbiamo gli ultimi due sistemi Di raid Sono che sono Uno per le pozioni L'altro per l'enchanting Allora Andiamo a vedere Quello per le pozioni Premiamo qui Dobbiamo aprire una stanza Qua Eccola qui Veramente è fatta bene Dove noi Qui abbiamo appunto L'alambicco Qui l'output Delle nostre pozioni Noi scegliamo ad esempio Di fare una pozione così Premiamo il bottone E qui dovrebbe comparire Vediamo un po' Vediamo un po' Vai comparita Eccola qua ragazzi Abbiamo qui infatti Le tre pozioni Che si stanno adesso creando Che infine Dopo che sono state completate Andranno a finire All'interno di questa cesta Adesso ci prendiamo La nostra pozione di velocità Ce la beviamo E aspettiamo Che facciamo questa cosa E facciamo un giro veloce Per la casa Che poi non è mica una casa Appunto ragazzi È una stanzetta Ma è a tutti gli effetti Una casa su minecraft Perché appunto C'è a tutto all'interno Tutto quello che ci può servire Per sopravvivere Vediamo un po' Se ha finito Anzi facciamo un'ora Sampiamo il vetro E vediamo un pochettino Ok sta quasi per finire ragazzi Vediamo un po' Tac Ok l'ha finita E ce l'ha messa appunto Qua dentro Abbiamo le nostre pozioni Possiamo chiudere questo E infine Apriamo L'ultimo sistema Di redstone Che è appunto Quello per Encentrare qualcosa Quindi premiamo qua Deve aprirlo appunto Al centro E quindi ragazzi Abbiamo appunto Il nostro sistema Per encentrare Allora direi di Encentrare il nostro arco Lo encentiamo Con un power 4 E qualcos'altro E un breaking 3 E abbiamo quindi Il nostro Sparacarote v2 Versione Proprio potentissima E così abbiamo Il nostro Sparacarote v2 Che sparerà Delle frecce Veramente potenti Perfetto Invece adesso di chiudere Questo qui Delle di riaprire Tutto In modo veloce Così Tac 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 E tac Ommo di di bordello Ok Prima di ragazzi Abbiamo aperto tutto Tranne che la porta È giusto Apriamo anche la porta Oddio si sta facendo anche notte Qui vediamo i trucci così Guardate quanti divali arrivano ancora Che bello Prendiamo lì tutti Troppo bella sta cosa ragazzi Cioè ha sparato esperienza In tutta la nostra stanzetta Comunque ragazzi Come vedete Questa stanzetta Ha veramente Di tutto E di più Però come vedete Adesso all'inizio del video Voglio un attimo vedere Come funziona Il sistema appunto Del kart Perché sono veramente curioso Ok ragazzi Ho messo giorno Allora direi di spaccare Un attimo qui Qui fuori ragazzi Come vedete Abbiamo tutti i circuiti Che fanno funzionare Che fanno funzionare Questa magnifica stanza Che è una figata assurda Come avete visto Vediamo un pochettino Dove è il sistema Dei kart Eccolo qua In pratica ragazzi Come funziona Premendo noi Questo Non voglio rispostare Per il kart Perché se no si bugga tutto Spostiamo di nuovo Pochettino così Ok Premendo il bottone Ecco ora Dovrebbe scendere Perfetto In pratica cosa fa ragazzi Ogni volta che noi premiamo Il bottone Ad esempio Questo kart Si sposta Va a finire qua Questo kart Si sposta Va a finire qua Questo qui si sposta Fa tutto il giro Per sopra E di nuovo Riscende qui Guardate un pochettino Vediamo se riesco A farvelo vedere Per bene Opla Guardate un po' Questo si sposta Sale qua sopra Fino quando poi Non scende qui Eccolo qua Secondo me Questo qui Nei sistemi di rete Sono più fighe Anche più belli Anche carine Anche da vedere E comunque ragazzi Direi che questa stanzetta Merita veramente Tantissimo Avete appena visto Ragazzi questo video finisce qui Spero tantissimo Se vi è piaciuto Vi ricordo che se raggiungiamo I 800 mi piace Ci sarà il video Su castello più sicuro Di minecraft Mentre se raggiungiamo I 500 mi piace Avete naturalmente Come sempre Il download In descrizione di questa mappa Naturalmente Dopo che la vi è scaricata Voi siete liberi Di ricrearlo Oppure di copiarlo E incollarlo Tranquillamente Nel vostro mondo Io direi di comunque Inserirla Nella vostra casa In un punto proprio Sotterrario In modo che Tutti i circuiti di redstone Non si vedono Ma comunque Penso che voi avrete Molte più dei di ma Detto questo ragazzi In video di iscrivervi Se non mi siete iscritti E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Sono entrata Sono un po' buon Natale E sta ammattando qualcuno Ciao Entra 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 Salvalo 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 No qual cavolo che lo sa Mi salvo io Vincere amore